poteva non esistere un'altra truffa ma noi sconfiggeremo le truffe di tutto il mondo ebbene sì oggi abbiamo una truffa ai danni di amazon perché ai danni di amazon perché qualche bell'individuo ha creato un annuncio pubblicitario su google su youtube su altri siti dove sponsorizza una carta regalo una gift card di amazon dal valore di 200 euro gratuita gratuita ma io vado a prenderla subito no perché ce ne sono un tot a disposizione ma quindi sono sorteggiato per ricevere questa carta no non funziona così il problema è che loro richiedono questi misericordia 2 euro sempre questi 2 euro da pagare per poter fare le loro transizioni perché dico questi benedetti 2 euro perché è una truffa che ormai conosciamo infatti vi lascio qui sopra il link in descrizione della truffa dell'iphone a 2 euro quindi mi raccomando non andate a cliccare su questi su questi link adesso ne uscita un'altra io ve la faccio vedere infatti adesso vedrete il mio smartphone io ho semplicemente cliccato su un link che quando andate a vedere un video magari uscirà anche sotto i miei video ma non è un annuncio che creo io viene generato in automatico da youtube c'è questo link che dice ottieni un buono regale a amazon dal valore di 500 mio sbagliato pensavo pensavo che era 200 no 500 euro vi rendete conto quindi a qualcuno può fare gole cosa va a cliccare io l'ho fatto perché ero curioso di andare a vedere se anche questo era una truffa in effetti sì perché come vedete abbiamo questo buono regalo amazon ecco in asterisco c'è scritto piccolino quando le condizioni di partecipazione sono soddisfatte quindi cosa significa che voi non riceverete mai e qua ci farà delle domande delle domande che sono delle domande semplicissime sono domande che tutti noi possiamo rispondere allora come ti piace fare acquisti amazon è certo io non piace fare acquisti su amazon è una delle piattaforme migliori che esistano questo è il modo per ricevere un buon in omaggio 500 euro allora cosa facciamo cercasi partecipanti dove sta cercando persone che fanno regolamenti acquisti ma tutti facciamo regolarmente acquisti su amazon per contribuire a migliorare i prodotti quindi allora cosa faccio io voglio ricevere questo questo buono allora cosa faccio inizia sondaggio sondaggio clienti primo punto della truffa sondaggio clienti perché tutti siamo clienti quindi loro si rivolgono a noi clienti secondo punto proprio sotto disponibile solo oggi 11 maggio 2021 se voi lo andate a fare domani vi scriverà solo oggi 12 maggio 2021 quindi questo secondo punto che fa pensare ad una truffa terzo punto proprio non ne scappa uno ci ringraziano per aver considerato di prendere in esame questo sondaggio quindi si rendono molto cordiali loro quarto punto una volta all'anno cerchiamo 500 persone a cui piace acquistare le amazon per fornici un feedback onesto quindi loro solo per oggi solo per oggi cercano queste queste persone solo oggi ma sono davvero fortunato quinto punto non so se siamo 5 o 6 non mi ricordo già più feedback onesto ecco noi siamo gli onesti che mandiamo mettiamo un feedback ma loro non lo sono in segno di gratitudine siamo lieti di offrirti la possibilità di ricevere un buono regalo amazon da 500 euro ecco in segno di gratitudine loro sono davvero davvero entusiasti di avere noi come clienti basta completare il sondaggio qui sotto per partecipare è facilissimo tredicesimo millesimo punto carte regalo restanti guardate ce ne sono 291 e guardate come scalano questi 288 286 quindi c'è un tempo devo farlo devo farla più presto perché se no non ricevo questi 500 euro devo farla più presto guarda come sta scalando peccato che io l'ho provato due ore fa e ce ne erano sempre 300 quindi è un tempo è un timer in realtà quello non sono le carte restanti è semplicemente un timer andiamo a vedere qui di questo un altro punto ci sono le domande sotto alle domande c'è scritto falla adesso prima che questa fantastica offerta scada veloce dovete farlo in pretta senza pensare quindi questa cosa è da fare subito un altro punto è un segno di una truffa il fattore che dovete fare una cosa senza pensare questo è uno dei punti da dover considerare andiamo avanti più sotto andiamo a vedere delle recensioni di persone reali che hanno ricevuto queste questi buoni peccato che questi sono sono personaggi con nomi e foto profili prese da tutto il web quindi il web ha accesso a tutti questi questi profili e quindi carica foto e nomi a caso con la recensione scritta a caso che qualcuno magari scrive con il mi piace sotto quindi diciamo robotizzati queste cose infatti abbiamo pure il fatto di pollici in su quindi mi piace questo piace questa recensione e c'è scritto proprio ora quindi tanti lo stanno facendo proprio ora è un altro punto fatto che questi qui sono tutti i consulenti finanziario consulente legale ha studiato matematica supervisore di turno dentisti sono chef rappresentanti consigliere studente sono tutti una certo livello quindi sono tutti intelligenti sanno di quello che stanno facendo quindi è da fare è una cosa reale no mi dispiace non è così andiamolo a provare quanto spesso fai acquisti su amazon ogni giorno come valuteresti sono molto soddisfatto di amazon come valutare la soddisfazione complessiva del check out di app molto soddisfatto quanto è probabile che continui a visitare il sito amazon molto probabile hai visitato uno dei altri siti web no solo amazon quanto è probabile che consiglieresti amazon molto probabile perché a me piace a ma mi piace comprare su amazon quanto spesso vedi annunci pubblicitari giornalmente che stesso sono maschio stiamo controllando le nostre risposte non ci sono trovate registrazioni doppie abbiamo ancora il gift card rimanenti 78 stanno scadendo velocissimo con gratuazioni con gratuazioni abbiamo completato il sondaggio e la carta regalo 500 amazon è stata prenotata dobbiamo seguire le istruzioni per richiedere il buono regalo quindi abbiamo riservato questo buono regalo amazon nei prossimi 30 minuti non dovete pensare dovete solo andare scrivere i vostri dati nome e cognome e cosa fare richiedi ora inserì ecco eccolo qui inseriamo i tuoi dati di contatto di consegna e paga 2 euro per la spesa di spedizione eccoli qua questi due euro benedetti li prenderanno in tutto il mondo a tantissime persone immaginate quanti soldi mi sono infilato un dito nell'occhio immaginate quanti soldi loro si possono fare con questi due euro semplici i 500 euro non li vedrà mai nessuno è una cosa che non dovete assolutamente fare assolutamente mi raccomando non cliccate nei link vi faccio vedere uno degli ultimi punti su cui pensare guardate il link sopra online su starway pros il punto link sono siti creati niente porta a un a un link serio se amazon vuole fare un'offerta sarà direttamente www.amazon.it non sarà nient'altro mi raccomando adesso qua mi stanno scadendo le gift card quindi non avrò questi 500 euro peccato che sono rimasti 10 e non sta scendendo quindi mi sta dando una possibilità di completare questo questo questionario per non perderli perché loro si perderebbero questi due euro se scaderebbero queste carte restanti quindi mi raccomando non fate mai acquisti su siti senza paypal io vi lascio anche l'altro video su come fare acquisti sicuro sicuri e mi raccomando non cliccate nel link che non conoscete non fatevi abbindolare non inserite carte mastercard carte di pagamento non fatelo mai se non siete sicuri del sito come amazon o come altri siti che conosciamo non fatelo mai mi raccomando per questo è tutto io vi rimando al prossimo video rimanete sintonizzati e accendete la campanella che si trova qui sotto iscriviti e campanella a fianco così vedrete una notifica dei miei video futuri mi raccomando anche iscrivetevi al mio canale telegram perché qui nel mio canale pubblico di telegram trovate tutti i link di offerte reali e sicure potrete andare a comprare tantissimi oggetti che in generale sono molto cari quindi iscrivetevi così vedrete solo semplicemente questi link e se volete acquistare lo potrete fare quindi ci rivediamo la prossima rimanete sintonizzati ci vediamo al prossimo video ciao ma che bevi orellini blocca d'acqua